Giampiero Gasperini entrare all'Old Trafford è meraviglioso stadio secondo me è il più bello abbiamo girati di fantastici e di molto belli da Dortmund abbiamo cominciato a Lyon quando abbiamo cominciato la prima in questi anni e altri stadi altrettanto belli Liverpool Amsterdam però questo questo credo che li supera tutti è veramente fantastico domani con tanto pubblico tutto esaurito sarà già quello uno spettacolo. Manchester United Atalanta che partita sarà? Una partita sicuramente difficile in un teatro gremito quindi resa ancora più difficile sicuramente anche da questo però per noi è un'esperienza incredibile giocare una partita del genere con tanto pubblico con una squadra così forte dobbiamo fare il massimo veramente esprimerci bene io ci tengo molto che si riesca a fare una bella prestazione. Che cosa ha studiato Giampiero Gasperini per questa partita perché non solo la difficoltà di affrontare Manchester United ma l'Atalanta deve andare anche oltre la sfortuna legata agli infortuni. Sì questo come ho ribadito più volte sono molto dispiaciuto soprattutto per loro per questi ragazzi che hanno contribuito in modo così determinante a portarci a giocare questo tipo di gare mi dispiace veramente tantissimo per tutti quanti detto questo è chiaro che noi stiamo pensando alla gara stiamo cercando le nostre migliori soluzioni dovremo sicuramente giocare una partita di alto livello anche sul piano tecnico per riuscire a frenare un po la spinta di questa squadra. E quindi tutto pronto o quasi può cambiare qualcosa ha già deciso? Non abbiamo avuto tantissimo tempo perché abbiamo giocato domenica e oggi questa mattina prima di venire a Manchester abbiamo potuto lavorare un po però una squadra che la nostra ormai gioca da tempo insieme a delle conoscenze anche se c'è qualche giocatore appena arrivato però si sta inserendo direi velocemente c'ho l'aiuto il contributo di tutti i vecchietti che sono qui da tempo con noi dobbiamo essere orgogliosi di di essere venuti fino qua a giocarsi questo tipo di gare.